Io mi chiamo Giovanni, lo sapete, oggi voglio raccontare la mia vita, e poi sono nata a Napoli, sono nata a San Giovanni Bosco, ci chiamo me e me, vivo a Capranica, ma sono napoletano, volete sentire una frase, we, why, you? Vabbè non fa niente, sono ridi molto finta, non rido sempre, poi ho 7 anni, lo sapete, mi sa che l'ho detto nello scorso video, scrivete sui commenti, poi sono nato, ho molti libri qua dentro di quando sono nato, io sta sopra, vedete? E poi, ci assomigliavo tanto, poi il primo giorno che sono stato a Capranica, ho dormito nella culla, e poi quando ovviamente, io avevo tanta fame, pianghevo, non dormivo quasi, niente, mangiamo papà, poi sono piano cresciuto, piano piano, sono cresciuto, sono cresciuto, scresciuto, e poi a 3 anni ho cominciato ad andare alla scuola a Matella, poi a 6 anni, a 4 anni, 5 anni, fino a 6 anni sono andata alla scuola primaria, e cioè amici di Jacopo Barbarani, Beatrice De Angelis, però non dico migliore, Davide Pacifico, se mi sta guardando, allora lo saluto, ciao Davide, mi sta nella seconda, che io sto nella seconda qui, e tutti quelli compagni che mi stanno guardando, domani io lo vado a dire, che io li ho nominati proprio nella vita, nel mio video, e ragazzi poi, capite, io voglio, cioè adesso ho 7 anni, vado in seconda, c'ho ancora gli stessi amici, e niente, alcuni giorni mancano gli amici, ragazzi poi mi piace fare tanto basket, ho cominciato a misare l'anno scorso, poi faccio sempre pescino, ho dato 2 anni, papà, a 3 anni, poi mi piace guardare film, quasi un pochino quelli ho, e mi piace guardare tanto lo straordinario mondo di Gamble, i Teen Titans, l'originale dei Teen Titans, quello con le persone in carne rossa, invece quello là, e quello là senza persone disegnate a casaccio, che? Che qua? Il tuo cantante preferito, chi è il tuo cantante preferito? Il mio cantante preferito sono i, mi sa, quelli che hanno inventato canzoni dei dinosauri, Reddimi, 6, 8, 5, 5, e quelli che hanno una canzone chichissima, vabbè, il mio cantante preferito è Gianni Morandi, Massimo Ranieri, perché si chiama come me, no vabbè, Massimo Ranieri lo escludo, Fabio Vassi, tanti cantanti che mi piacciono, mi piace il film, quello che ho vissuto più al cinema, mi piace l'Autropolis, che mi ha fatto nidda piacere, il vegetale, mamma mia, è stato proprio stupido, ah, mi sono dimenticato di dirvi, sapete che io vado sempre a Roma, vabbè, no, questo non c'entra niente, poi a me mi piace fare tanti disegni, come quelli che ha preso lì, e va! Forza, dai! E poi, questi se ti segui, mi piace quei film Jurassic Park e Jurassic World, sapete che esce al cinema? Jurassic Park of World, Il Regno di Stute, guardate, papà, giro qua, questa è una scena dei Wedry 6, 8, 5, 5, c'è un vero filatto che sta in città, la serie che si chiama Primeval, sta mangiando il distributore di caramelle, l'ho spaccato, e guardate, questo questo è un altro disegno che ho fatto io, di Primeval questa serie qua, guardate, questo è lo stesso di usare questa cosa, intendo che l'ho fatto più grande per vedere, questo più piccolo, venite, presento, Spinosauro, Mammut, non lo so, non lo so, non lo so, Gigantosauro, non lo so, non lo so, Isabex, non lo so, Dragorex, non lo so, Uomo Primitivo, lo sapete tutti, che è davanti a sciabola, non lo so, non lo so, so solo il nome inglese, Camo Beast, Rochiatton, non me lo ricordo, Mosca Gigante, no, non lo so, Mosca Gigante, ragno e Gigante, così, ciò mi scopriamo, Gigante, e le piedi gigante, questo è il tema d'attivo, ok ragazzi, spero tanto che questo video, vi salto a chiudere, ciao, 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 Grazie.